Ecco ecco, ci siamo, lì c'è Giove che si sta andando a baciare, non si vede, qui c'è la luna, qui quello più piccolino è Giove, lì si sta avvicinando alle 9, ancora c'è tempo, si baciano, così dicono, più ci saranno le stelle cadenti, ma ancora le stelle cadenti non si vedono, ah ok, adesso si vede qualcosa, si, si stanno avvicinando, si, c'è Giove, come si fa, c'è per fare lo zoom, io prima me l'ha dato, io boh, ecco, non c'è, non riesco, ah ok, ah così, ecco, ah, ecco, ah, quello lì è Giove, e quell'altro è la luna, certo, ah, non riesco più a comandare un cast qua, ecco Giove, questo è Giove, 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 è Giove, è Giove, è lei, va bene, è la luna, ma dovrei aggiustare un po', tutto filigrano, non si vede un cazzo, oh, dai, vai, adesso più o meno, ho preso un po' la mano, adesso vediamo, ah, quindi devo, ah no, così rimpicciolisce, e così si ingrandisce, vediamo fino a quanto ingrandisce, ah, che dopo è fatica a mantenere l'equilibrio, ah, eh, Giove, Giove, ah, ok, eh, però, dovrei migliorare la qualità a qualcosa, guarda, la luna dopo non si vede bene, eh, perché mi metta tutto a posto così, però ancora non ci siamo, eh, vai, forse ci siamo, ma no, ancora no, no, ancora no, sono distanti duri, Giove, sono quasi le nove, avevano detto le nove, dico, boh, guarda qua, però Giove è bello, cioè, Giove si vede così meglio, vabbè, la luna, eh, comunque, sti cazzo di metrologi, o chi cazzo è, astronauti, sbagliano tutto, perché sono le 21 e 1, avevano detto 21, si baciavano, invece ancora te vuoi, qua, facevano avanti così, per mezzanotte, mezzanotte e un quarto, forse, solo che girano, girano, io non le vedo più, dopo vanno a finire di qua, perché stanno andando sempre più in su, dopo c'è il terrazzo, quindi dovrei andare sulla parte di là della casa, quindi sto cazzo di bacio, sinceramente, glielo faccio fare io, ecco, oh, ecco il bacio, boom, 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 ecco, no, veramente, hanno sbagliato tutto, c'erano le 21, le 21, sono le 21 e le 20, ormai, basta, chiuso tutto, perché è un freddo della madonna, non sto neanche più a guardare sto cazzo, mi spiace, perché sarebbe stato bello vedere, le stelle cadenti non se ne vede un cazzo, anche quelle, posto.